Bene, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti, cominciamo sempre con una piccola meditazione nostra, benvenuti nuovi anche, ci dovrebbe essere qualcuno di nuovo, cominciamo, ci sediamo comodi comodi, con la schiena retta se possibile, semplicemente mettiamo le mani sul cuore, chiudiamo gli occhi, mettiamo le mani sul nostro cuore sacro, sul nostro bellissimo cuore e l'invito semplicemente a notare che il respiro sta accadendo da sé, grazie ad una intelligenza amorevole, che possiamo anche chiamare un amore intelligente, che regola con cura, amore e presenza ogni mia singola funzione, delle mie 50 miliardi di cellule e sento questo ritmo che forse si sta facendo un po' più lento, un po' più profondo e riconosco questa forza vitale che entra dentro di me, da vita, luce, energia ad ogni parte del mio corpo e la restituisco, restituisco la luce. sento il mio cuore che si espande, ad ogni respiro si diventa un po' più grande, si arricchisce di questa forza vitale, di questa luce e immagino che siamo tutti seduti in un grande cerchio, siamo in 75 quindi un bel cerchio grande e apro le mani, la mano destra con il palmo verso l'alto, a tenere la mano del mio vicino, la mano sinistra con il palmo verso il basso, a tenere la mano dell'altro vicino e sento che chiudo questo cerchio e sento scorrere questa energia vitale, questo amore, questa presenza di noi seduti qua nel gruppo. lascio che il respiro diventi profondo e mantengo questo contatto e noto che all'interno di questo cerchio c'è un altro cerchio e ho davanti a me una versione di me che è più trasparente e sorridente, luminosa, è come un ologramma, è pure energia e non ha condizionamenti, non ha valutazioni, calcoli da fare. L'unica emozione che ha è l'amore verso di me e apro un canale dal mio cuore al cuore di questa presenza, di questa mia essenza che è proprio davanti a me e prendo familiarità. È la mia versione trasparente che non trattiene nulla, semplicemente lascia scorrere luce, amore, presenza, spazio vuoto e stabilisco un contatto con lei e mi sento inondata da questa energia, da questa luce, da questa forza vitale e cerco di contenerla dei miei limiti fisici, del mio corpo fisico, di questa energia rappresa. E sento che forse vuole comunicare con me e so che lo fa sempre e solo ora forse sto mettendo l'attenzione a questo canale di comunicazione, che ho con la mia essenza. Sento che non è toccata dalle circostanze, dagli umori, è solo toccata dalla gioia, dalla luce, dalla pace, è abitata solo da queste emozioni elevate, da queste frequenze. In questo momento percepisco la bellezza di sapere che c'è un'altra versione di me a cui posso sempre tornare per riposare, per sentirmi accolta, abbracciata e so che ho una presenza stabile, inamovibile, affidabile, rassicurante ed è parte di me, sono io, nella mia versione, prima di condensarmi nella fisicità del mio corpo, è sempre là e vedo che è la verità di chi sono io e questa essenza basata sull'amore. E domani durante la mia giornata più troverò occasioni in cui essere amorevole, più sarò tutt'uno con questa essenza. E rimango ancora un pochino così a contemplare questa bellezza che ho davanti a me. e dentro il mio cuore ringrazio questa presenza, questa mia essenza. Do una piccola stretta alle mani dei miei vicini per salutarli e riporto le mani sul cuore. E forse mi viene istintivo di abbassare un po' la testa per salutare il mio cuore, la mia essenza. Lasciarla andare e piano piano tornare nel mio corpo, nel respiro. Piano piano posso abbassare le mani, aprire gli occhi e ricollocarmi nel qui e ora di questo mondo a tre dimensioni. Io riconosco gli oggetti della mia stanza, lo spazio vuoto e cerco di rimanere in questo spazio di presenza in cui sono entrata ora. Questa sera volevo condividere con voi, anche perché ci sono diverse persone nuove, giusto due parole sulla pratica. Che cos'è la pratica? Cosa facciamo qua? Lavoriamo sulla presenza. Eckhart è un maestro di presenza. Sui libri c'è tantissimo da studiare, da leggere, continuamente, continuamente, continuamente. Sono ispirazioni molto profonde che vi invito sempre a rinnovare. Tenete sempre a portata di mano i suoi libri, apriteli, teneteli sempre con voi. E lì troverete la descrizione di che cos'è la presenza. Vi voglio dare solo due spunti pratici, perché qui parliamo della pratica, che poi ampliate sui libri di Eckhart. A volte presenza è una parola che un po' disarma, dice ok, come faccio ad essere presente? I due riferimenti che vi voglio dare, uno è presenza uguale vigilanza. Come dice Eckhart, immagina il gatto davanti alla tana del topo, può stare lì in attesa le ore. Non c'è tensione, c'è vigilanza, è vigile. Non è neanche un'attesa, perché non la finalizza il topo che esce, è un suo stato di presenza. Quindi, se volete essere presenti, ricordatevi del gatto davanti alla tana del topo, che è in questo stato di quiete, non è teso, la presenza non può essere uno sforzo. C'è già. Io sono quell'essenza, quella presenza. Non ho nulla da raggiungere. Per raggiungere, devo semplicemente ricordarmi, questa è la seconda spunto che vi do, vigilanza e ricordo di questa essenza che io ho sempre davanti a me, ma in realtà è dentro di me. E quell'essenza è pura presenza, consapevolezza. Quando si unifica al mio corpo fisico, io sono attraversata dai pensieri. Ma come diceva il grande maestro Zeng, lascia aperta la porta davanti, la porta dietro, e fai passare i pensieri, ma non offrirgli il tè. Non invitarli a sedersi al tuo tavolo. Fagli scorrere. Li osservi, passano, e li lasci andare. Quindi presenza non è sforzo, è allerta e vigilanza. E la presenza è anche quando passa un pensiero, lo segui e dici Oh, stavo seguendo un pensiero. Quell'istante è presenza. Notare quando non lo sei è presenza. Non puoi uscire fuori dalla presenza. O ci sei, o noti che non lo sei. Ma è sempre lì. Questa è la nostra ancora, la nostra sicurezza. Quindi l'esercizio che vi invito a fare, andiamo sempre sul pratico qui, lo sapete, sul vostro diario, scrivere Sono presente ogni volta che e decidete voi quando. Sono presente ogni volta che bevo un bicchier d'acqua. Lo scrivo così la prossima volta che prendo un bicchier d'acqua, me lo ricordo. Un'altra cosa molto bella, l'acqua è una sostanza magica, è vita. Quindi prima di bere, dite Grazie acqua. Sapete, no? Che le frequenze vengono assorbite dall'acqua. E quindi, grazie acqua. E bevete queste frequenze della gratitudine che si sono fissate nell'acqua. Grazie acqua. Quindi sono presente ogni volta che salgo in macchina, mi infilo le scarpe, metto il piede giù dal letto. Fatevi questi pro memoria e ogni giorno aggiungete alla lista. Qualcuno ve lo ricorderete ogni giorno, qualcuno ve lo dimenticherete però. sono presente ogni volta che e ampliate, 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 fino a che i momenti di presenza aumentano sempre più. Questi erano giusti due pro memoria per chi magari è entrato adesso. A che cosa serve la pratica? Perché cerchiamo di essere presenti e quindi ci ricordiamo di essere presenti. A cosa serve la pratica? Serve solo ad una cosa, a fare chiarezza. A gettare una luce che illumina e quindi mi rende chiaro chi sono e l'ho visto. Dove sono? Quali sono le circostanze della mia vita? Perché per sapere chi sei, dove sei, basta che osservi la tua vita. Riflettono la tua interiorità, quello che sei. Quindi, osservi la tua vita, ci sono conflitti, dove sono conflitti, ci sono delle facilità, dove sono le facilità? Quello sei tu. Non ci sei tu e poi da una parte la tua vita giusta o sbagliata. Tu sei la verità della tua vita. Da qui non se ne esce. Quindi, per sapere dove sei, osserva la tua vita. È un ottimo specchio. La pratica ti dà chiarezza su dove sei, su cosa sei, su cosa vuoi. A un certo punto capirai quali sono le scelte della periferia o quali sono le scelte dell'essenza. E piano a piano certe cose cadranno, certe amicizie tossiche cadranno, certe abitudini che non ti fanno bene, perché la tua essenza vede, sa che cosa ti fa bene, cosa non ti fa bene, cosa ti fa crescere. E piano a piano più ti ricordi della tua essenza, più lasci scegliere a lei, più cadono le cose dannose che non ti fanno crescere, non ti fanno evolvere. L'aspetto pratico della pratica è che quando sai chi sei, quell'essenza, quando arriva una sfida, cosa fai? la periferia reagisce, ma l'essenza dice vieni, vieni, adesso giochiamo, perché voglio evolvermi. Cosa mi hai portato? Ok, c'è della rabbia che vuole uscire, c'è del risentimento che vuole uscire, vediamo che cosa mi dicono. si chiamano sfide, perché ti sfidano a far uscire la luce della tua chiarezza, la luce della tua illuminazione, che illumina tutto quello che ti accade. La pratica serve solo a questo, è un po' l'immagine quella di una montagna, vuoi raggiungere la vetta perché da lì hai una visione chiara. ti prepari, prepari lo zaino, vai alla appendici della montagna e incontri dei pellegrini che scendono e dici ma com'è, com'è la montagna? Ah è bellissima, fantastica, guarda, prendi il versante nord perché è un po' più ripido però si arriva prima, è fantastica, bene, bene, grazie. Incontri un altro pellegrino, com'è, com'è? Ah è bellissima, una visione, una vista splendida, natura incontaminata ma prendi il lato sud perché è più lungo però hai una vista migliore. Ah, bene, 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 bene. A quel punto puoi dire incontri un altro pellegrino e dici guarda, io ho fatto invece un'altra strada e da lì è fantastico, ci sono dei boschi, ci sono altri. A quel punto tu puoi dire ma alla fine mi hanno descritto com'è, mi hanno detto che è bellissima da tutti i lati, non serve che vada in cima, me l'hanno già descritta loro e te ne torni a casa. Queste sono le persone che leggono i libri. Qualcuno ti ha raccontato, qualcuno che è stato in cima alla montagna e ti ha raccontato com'è, mi dice ok, mi basta questo, scelgo quale versante, quale libro, quale scuola, quale maestro, leggo e mi basta così. C'è invece chi dice ma io quasi quasi salgo, ho tutto quello che mi serve e cammina, cammina, cammina. Incontra un ristorante e dice ma in effetti mi sono portato solo un panino o un po' di languorino o qualcosa mangio. Si ferma al ristorante, prova qui, prova la polenta, prova questo, ma ci abbiamo anche un buon vinello. e beh, devo assaggiare il vinello. Mangi, bevi, scherzi, fai e chiaramente poi sei appesantito e dici ma quasi quasi resto qui, mi faccio un riposino poi torno a casa, è inutile che sto a salire sulla montagna. E questo sono un altro tipo di persone. Comincia a piovere, dici beh no, se piove è un segno che non devo salire, torno a casa. un altro tipo di persone. Inizia a piovere e dici ok, io vado comunque. Chi ha l'intenzione e la determinazione di salire in vetta ha quasi bisogno della pioggia per chiamare l'aiuto che arriva quando sei determinato, quando una contrarietà accade e tu ci passi attraverso. Questi sono quelli che arrivano in vetta e hanno la visuale più ampia e hanno qualcosa da raccontare. ognuno sa che cosa vuole fare. La pratica ti offre questi vari livelli, questi vari approcci che vanno bene. La pratica è personale, lo dicevamo l'altra volta. Deve essere un cappotto della tua misura. Se è troppo lungo ti ci inciampi. Se è troppo corto o troppo stretto non respiri. Devi tu tagliare la pratica per la tua misura e decidere che cosa vuoi. Fare un bilancio a che punto sono, di cosa ho bisogno, che cosa voglio, quanta energia ci voglio mettere per ricongiungermi con quell'essenza. È tutto lì. Il viaggio non ha neanche un passo perché già ci sei, sei già arrivato. Quindi il famoso viaggio della montagna sei tu che devi abituarti ad avere uno sguardo focalizzato ma anche uno sguardo d'insieme. E questo è quello che vogliamo avere. Poter usare tutti e due. La vigilanza, la presenza ma anche lo sguardo che comprende tutto. Che si chiama anche amore. Comprendere, abbracciare quello che arriva. È tutta una questione di pratica. e i passi li facciamo. Sono esercizi piccoli che però scavano un solco piano e piano. e posso trovare degli ostacoli a questa mia scoperta di me stesso. Ostacoli alla pratica. E sono essenzialmente due. Uno è pensare troppo. Eckhart lo dice in uno dei suoi libri la condizione umana è persi nel pensare. Siamo persi perdiamo le coordinate perdiamo tutto nei pensieri. Quindi il primo ostacolo è il pensare troppo il ruminare o su tanti pensieri questa è la manchi mai della mente scimmia che salta di albero in albero oppure essere ossessionati da un pensiero che ti porti avanti le ore le ore le ore ma non dovevo dire quello perché mi ha detto quello ma allora se io avessi fatto così quindi cercate anche di individuare che tipo di pensatori siete se ne avete tanti o se ne avete pochi ma molto concentrati ossessivi che tornano anche quello può aiutare a conoscersi dire ah ma sono quattro ore che sto pensando a questa stessa cosa forse sono un pensatore ossessivo ok oppure senti che sei bombardato da tante cose e dici ok sono un pensatore con la mente da scimmia che salta di ramo in ramo e dici ok 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 osservi noti prendi nota il secondo ostacolo che è l'ostacolo più grande in assoluto di cui però la scena contemporanea spirituale non ne parla mai parlano di traumi di vittima di perdono di bassa autostima di rabbia di tutto tranne questo sentimento lo voglio chiamare che è definito l'ultima barriera quindi è l'ultima cosa più grande da lasciar cadere ed è l'orgoglio non se ne parla mai è come un argomento tabù che viene mascherato da tante cose la rabbia la rabbia è un sentimento un'emozione facilissima è sincera è autentica tant'è che come vi dicevo tanti maestri l'hanno mantenuta hanno trasceso l'invidia l'orgoglio la gelosia ma la rabbia è un buon carburante da una persona che è irascibile ti puoi aspettare solo che la verità non avrà mai dei piani delle delle invidie gelosie nascoste è quello che è quindi la rabbia tanti l'hanno conservata guarda Gurdjieff Papagini Sargadatta Maragio c'è una lunga lista di grandi maestri che hanno mantenuto la rabbia ma l'orgoglio l'orgoglio è un ostacolo insormontabile ci devi lavorare veramente tanto perché chi ha un brutto carattere lo vede subito un brutto carattere appunto una persona irascibile e qui di là se è orgogliosa lo vede subito è facile ma è molto difficile da individuare in una brava persona che ha un buon carattere dice ma io sono bravo amo tutti tutti mi amano faccio le cose per bene sono perfetta e questo senso di superiorità è la tua caduta perché non c'è più umiltà mascherata da bontà ed è molto 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 difficile da smantellare molto difficile le persone con carattere cattivo cattivo nel senso di esuberante è molto più facile lavorare con loro con le persone con un buon carattere se nascondono l'orgoglio che però esce di qua e di là è molto difficile però si può fare così come l'orgoglio ti fa cadere l'orgoglio ti fa anche cadere nell'umiltà che è la tua unica salvezza solo l'umiltà ti può salvare perché è dall'altra parte dall'altra estremità della fune ci sono esempi biblici grandiosi grandi e grandi re la torre di babele è accaduto tutto a causa dell'orgoglio l'esempio numero uno Lucifero Lucifer portatore di luce era un angelo bellissimo luminosissimo cioè ha avuto il nome portatore di luce era l'insegnante degli angeli era magnifico pieno di luce quando Dio gli ha detto guarda ho creato quell'esserino là ti devi inchinare a lui e Lucifero scusa forse non ha capito bene quell'esserucolo quello schizzetto di argilla io dovrei inchinarmi a lui ma c'è la scritta in fronte che è un disastro un fallimento ti deluderà non sa fare niente io inchinarmi a lui no io sono più importante di lui chi è lui quest'atto d'orgoglio estremo l'ha fatto cadere ed era un angelo l'insegnante degli angeli guarda quanto è finito in basso capite che l'orgoglio può farti precipitare perché vuoi essere perfetto vuoi prendere la posizione di Dio solo Dio è perfetto e tu vuoi prendere quella posizione non è la tua mi ricordo sempre che in Afghanistan quando fanno i tappeti ci sono queste geometrie bellissime perfette l'albero della vita ma l'avevo notato dico ma che strano c'è sempre un punto dove c'è un piccolo difetto dico scusi ma perché hanno questo difetto non sono riuscita a farli bene dice no solo Dio è perfetto noi siamo umani sempre nascondiamo un piccolo difetto per ricordarci della nostra caducità umana per non crederci perfetti noi siamo perfettamente imperfetti e mettono sempre uno o due punti sbagliati che non si notano in un angolino però loro sanno che c'è e questo lo trovo lo trovo bellissimo perché il perdono può essere difficile perché dietro c'è l'orgoglio come ho osato tradire me come ho osato dirmi quella parola a me quindi ti dai talmente tanta importanza nel tuo orgoglio che non scendi a dire questa persona così cos'ha lo prendi come un'offesa personale della tua grandezza la mancanza di perdono è semplicemente un orgoglio che non si riconosce se tu riconoscessi l'orgoglio il perdono non ha più senso non ha più senso cessa lei non sa chi sono io come si permette di queste sono le frasi dell'orgoglio è come andare in giro con una coppa piena c'era la storia di quel filosofo che andò a visitare un maestro spirituale dice maestro maestro sono venuto qui per imparare da te lui era un famoso filosofo scritto libri maestro fa bene bene prendi un tè si editi lì prende la ciotola la tazza e inizi a versargli il tè e versa e versa e versa e versa e il tè usciva dalla tazza e questo filosofo dice ma cosa stai facendo maestro ma non vedi che sta uscendo dice sì quello sei tu sei venuto con la coppa piena qualunque cosa ti versi dentro esce fuori dimentica la tua conoscenza l'orgoglio dei tuoi libri della tua conoscenza e sii umile allora potrò versare qualcosa alla tua tazza quindi l'orgoglio è una barriera molto importante che tutti noi dobbiamo andare a individuare dov'è perché molto probabilmente qualche punto ce l'abbiamo e quella è la chiave ha fatto cadere l'insegnante degli angeli pensa che potere ha ha un potere sconfinato ed è bene incominciare a vedere nelle nostre reazioni in quello che diciamo come facciamo dove si nasconde perché è molto abile a nascondersi molto abile lo scambi per altre cose mancanza di perdono lo scambi per rabbia lo scambi per bontà lo scambi per tante cose quindi volevo individuare e fare esercizi anche su questo quindi esercizi da fare sono questi la mattina prima di mettere il piede giù dal letto vedi davanti a te la tua essenza e dici oggi fai tu affidati a lei lascia che pensi che agisca che agisca che non reagisca ma delega a lei al suo spazio il tuo modo di interagire con il mondo prova proprio a vederla c'è questa essenza con la quale ti sposi per andare nel mondo ma ricordati che lei se le dai spazio ti fa arrivare le intuizioni che prima erano una vocina sottile sottile dici beh adesso più le dai tensione più diventano la voce dominante e il chiacchiericcio nella testa a basso a volume le tue intuizioni finalmente hanno spazio ispirazioni intuizioni tutto quello che viene dall'anima da questo canale aperto allora forse diventano più più vive nella tua vita e vivere una vita seguendo le proprie intuizioni ed ispirazioni è una vita fantastica puoi fare una cosa puoi fare una scelta non sai perché la fai tutti ti sono contro ma tu la fai e ti senti fiorire dentro e poi vedi che messaggio ti ha portato che regalo ti ha fatto ogni cosa che fai per ispirazione ti ricolma di doni l'universo dice ci ha ascoltato e lei doni 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 non c'era così perché l'universo dovrebbe dare dei doni a chi va in giro così e non ascolta non ha senso inviti un ospite a casa tua diciamo ma che bello che buona cena ma che bella casa grazie grazie lo inviti di nuovo se inviti un ospite che dice ma che divano scomodo ma sai che c'era troppo sale nel risotto ma che brutta casa non lo inviti una seconda volta un ospite così un ospite che non si sa comportare non lo inviti la seconda volta quindi divertitevi con giocare con l'esistenza perché non vede altro che giocare con voi aprire semplicemente le porte giuste come dicono in tanti la vita non accade contro di me e si dice la vita accade per me io andrei un passo oltre la vita accade da me la vita accade da me quello che io decido oggi senza aspettare un motivo per essere felice in pace io lo sono basta la vita viene la mia vita viene da me da quello che la mattina decido che sia provare per credere il mio tempo è strascaduto chiudiamo qui la registrazione e apriamo quella delle condivisioni grazie a tutti